ciao a tutti oggi andremo a struccarci insieme non vi spaventate alla fine del video 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 sto usando proprio lo schermino del cellulare non vi spaventate alla fine del video 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 lo vedendo! anche mi alessi vi spaventate alla fine del video pazzesco molto molto rinfrescante ovviamente ora aspettiamo un attimo che si asciughi tutto poi andrò a mettere questo contorno ok ok ora andiamo a prendere questo tonico questo si ero ok 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ora, la mia crema preferita. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' molto denso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ora che ci sono, metto anche un po' di crema mani. Grazie a tutti. Ora, mi spazzo i capelli e ho finito. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.